La scuola Don Bosco Verdi di Qualiano si è raccolta stamattina intorno al progetto Matite Colorate per la Palestina, che nasce dall'impegno della consigliera comunale PD Anna Petrone e che dopo essere stato adottato in diverse scuole della provincia di Salerno, si sta diffondendo anche nella provincia di Napoli. Il progetto si propone di realizzare un fondo comunitario di materiale scolastico educativo che sostenga l'attività di studio dei bambini che vivono nella striscia di Gaza, ai quali la guerra impedisce la possibilità di un percorso formativo, continuativo e stabile. Concretizzare in questa azione di solidarietà un aiuto che sappia non solo sensibilizzare gli studenti di Qualiano sui temi della guerra e della violenza, ma che li aiuti a renderli consapevoli di fronte ai temi dei diritti umani e della dignità della persona. Noi abbiamo aderito a questa richiesta e in effetti questa è una proposta che serve proprio per portare fondi in Palestina ai bambini che non hanno più nulla, a cui è stato distrutto la scuola, il territorio, molto spesso le case. Quindi è un'inezia quello che noi facciamo. Quando è suonata appunto la campanella per noi in Italia, in Europa, è suonata sicuramente anche per loro, però loro non hanno nulla. Quindi noi cerchiamo con questa iniziativa, con la vendita delle Agende della Pace e con sollecitare i ragazzi a fare un qualche cosa per gli altri, per altri che hanno la loro stessa età, però hanno tante più difficoltà. Alla proposta convennistica si affianca il progetto Agenda della Pace, una pubblicazione dedicata ai temi della solidarietà e del ripudio della guerra, cui partecipa il consigliere regionale del Partito Democratico, Corrado Gabriele. La semplicità del gesto di raccolta di materiale scolastico conduce a un progetto da un profondo intento, cioè quello di consolidare una dimensione di pace, quella dello studio, cui la guerra strappa via i bambini di Gaza. Innanzitutto partire dalla solidarietà per poi arrivare alla legalità e poi arrivare anche a quello che è il concetto di mancanza di discriminazione, avere una mentalità aperta all'accettazione dell'altro, alla fraternità. Il progetto Matite Colorate per la Palestina rientra in un progetto più vasto che stanno portando avanti gli studenti della Scuola Verdi di Qualiano, sul rispetto della legalità e dell'incontro con l'altro. Un percorso sull'importanza dell'impegno civile che sappia creare un momento di confronto tra i ragazzi e le realtà che si occupano sul territorio e di creare spazi di dialogo sui temi della pace, della solidarietà e della convivenza civile. Noi vogliamo che un ragazzo che venga nella nostra scuola sia il cittadino del domani e quindi che possa iniziare con un'educazione che parta dalle basi per poi diventare una convivenza civile, democratica. Quindi vorremmo che una comunità come la nostra, come la società, debba però partire da quelle che sono le capacità e il valorizzare le nostre risorse. Le risorse che noi abbiamo sono i ragazzi, quindi vorremmo capire, vorremmo dimostrare che il nostro territorio, seppur martoriato dal malaffare, però può basarsi su risorse quali quelle dei ragazzi. Ovviamente per fare questo dobbiamo educarli sin dall'inizio, quindi dalla scuola elementare alla scuola media. Un discorso dunque da fare insieme per affermare la solidarietà come intento concreto che si sviluppa da un'idea di società di convivenza in cui tutti possano godere degli stessi diritti senza distinzioni e conflitti basati sulla provenienza nazionale. Grazie. 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 Grazie.